buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo ad analizzare insieme un nuovo progetto che si sta diffondendo negli ambienti cripto ovvero la blog cene il progetto celestia una blog cene modulare che punta ad essere sicura ma estremamente scalabile ma come sempre prima di cominciare vi invita a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale e attivando la campanellina e ora andiamo a vedere il progetto celestia ovviamente dopo la sigla siamo sulla pagina ufficiale del progetto celestia la giungibile all'indirizzo celestia punto org ma partiamo dal fondo partiamo dei social dove su twitter il suo profilo conta più di 64 mila e 100 follower su telegram conta 9.430 utenti nel momento in cui sto registrando il video e su disco or 35 mila 475 utenti attualmente non ha ancora un to che all'interno del progetto ma il team ha già rivelato che per l'appunto implementeranno un token utility questo to che ne verrà implementato all'interno del protocollo per proteggere la rete tramite il prufo steak e ovviamente per pagare le commissioni delle transazioni e hanno già affermato di inserire un programma di bruciatura dei token molto simile alle ip 1559 di etirium in modo che le commissioni che vengono generate e bruciate compensino l'emissione di nuove tocchi man mano che celestia ottiene maggiore adozione attualmente secondo l'hard map siamo nella test net release e nel 2023 dovremmo vedere il lancio della mainnet passiamo dal team team come potete vedere molto molto corposo bene schedulato e con e dalle ottime referenze e ovviamente come sempre vi invito ad andare a visionare in autonomia la veridicità di queste informazioni partendo dal sio che ha tenuto un dottorato nella ricerca della blog cene ed è con fondatore di chain space ismail che il cto di celestia che un ex ingegnere senior presso thunder main e inter chain foundation john adler cr o celeste lab che è il creatore di ottimisti che roll up e in precedenza ricercatore di scalabilità presso consensi nick white che è un co founder di harmony passiamo poi a ex sviluppatore di etirium ingegneri presso oracle ex ingegneri di google facendola breve un team veramente variegato e altamente qualificato celestia è il primo network block cene modulare che tenta di semplificare la creazione e implementazione delle block chain alleggerendo e carichi di lavoro e possiamo dire semplicemente con un click infatti vogliono rendere la distribuzione della blog cene facile e leggera come eseguire uno smart contract celeste a fornisce il consenso e la sicurezza su richiesta andando a consentire a chiunque come detto prima di implementare una blog cene senza sovraccarichi e senza aver bisogno di una nuova rete di consenso avvia un nuovo metodo di scalabilità della rete grazie al campionamento dei dati infatti celeste a non andrà a convalidare di persa le transazione e il suo troppo non è ostacolato dall'esecuzione dello stato con delle reti bloccine tradizionali celestia è in grado di scalare all'aumentare del numero di utenti i nodi leggeri della rete e ovviamente la sua sicurezza rimane tale che ci sono abbastanza nodi sulla rete per andare a campionare gli interi blocchi questo significa che man mano che più nodi si uniscono la rete vanno a campionare i blocchi la dimensione del blocco può aumentare di conseguenza senza andare a sacrificare la sicurezza o il decentramento questa caratteristica andando nell'implementare su una blog cene tradizionale vorrebbe dire andare a sacrificare la decentralizzazione perché un aumento della dimensione del blocco andrebbe a creare un requisito hardware maggiore per i nodi per scaricare verificare i dati celeste a come abbiamo potuto capire è una blog cene layer one molto minimalista che cercherà di facilitare gli utenti di sviluppatore di implementare la propria bello cene anche di creare una bello cene interoperabile con altre cene e sarà altrettanto facile riuscire interagire e implementare anche il layer 2 roll up celestia non va a imporre una logica di esecuzione e lascia spazio agli sviluppatori infatti sono liberi di andare a definire i propri ambienti di esecuzioni supporterà tutte le versioni come abbiamo visto dei roll up ma inizialmente si concentrerà sulla e vm e sulla cosmos sdk dalle immagini che valgono più di mille parole nella blog cene tradizionale se hanno due stack due livelli dove nel primo livello stia al consenso che lei ad esecuzione sono uniti insieme nel secondo livello nel secondo stack abbiamo gli smart contract in poche parole l'esecuzione la transazione il consenso e la disponibilità dei dati sono le quattro funzioni principali di una blog cene tradizionali sono implementate tutte su un unico livello il problema è che con le blog scene a stile monolitiche e il livello di consenso deve svolgere molti compiti diversi e non può essere ottimizzato e specifico solo per una di queste funzioni che abbiamo appena detto di conseguenza il paradigma monolitico limita enormemente il troppo del sistema celeste cerchi di andare a scorporare questi stack specializzandoli dove nel primo nel primo abbiamo il consenso e data lei nel secondo il lei ad esecuzione e nel terzo lo smart contract andando a specializzare questi lotti e facendoli eseguire delle determinate operazioni senza andare a mischiare con smart contract o consenso ad esempio lei ad esecuzione è molto più veloce dovrebbe essere molto più veloce rispetto ad una blog cene tradizionale e far sì che celestia diventi estremamente scalabile infatti celeste a scala andando a disaccoppiare l'esecuzione del consenso e introducendo un nuovo stack il campionamento della disponibilità dei dati questo cosa vuol dire che nel primo caso comporta a celestia che sia solo responsabile esclusivamente dell'ordine delle transazioni e a garanzia della loro disponibilità dei dati per quanto riguarda il campionamento della disponibilità dei dati va a dare una soluzione molto efficiente al problema di questa disponibilità andando a richiedere solo ai nodi light qui dei nodi leggeri con risorse limitate di campionare un piccolo numero di blocchi casuali è interessante notare che un numero maggiore di nodi light che partecipano al campione aumento aumenta la quantità di dati che la rete può gestire in sicurezza andando a consentire di aumentare la dimensione del blocco senza aumentare costo per la verifica poi nell'effettiva realizzazione di tutto il suo ecosistema quando sarà in mainnet se questo progetto ambizioso potrà avere suo spazio potrà attirare consenso attirare investitori sviluppatori e anche utenti per quanto riguarda il lato token sto fermandoci per un attimo sul lancio del loro tocco utility sarà una e si o è al momento non abbiamo neanche una token omics quindi non sappiamo nel dettaglio in che modo verrà implementato il token quanto sarà rifornimento circolante iniziale anche se avendo in programma la bruciatura del token esattamente come tirium e leggendo quella all'interno del loro sito posso immaginare che non avrà un massimo circolante definito ma potrebbe avere una max supply infinita questo perlomeno è quello che posso aver capito io e potrei anche sbagliarmi nel caso bisognerà vedere nel dettaglio poi la token omics e valutare attentamente un acquisto o meno del token per quanto mi riguarda non sono molto concorde nell'acquisto di un token che non ha una supply definita ma può essere stampato all'infinito ma può essere generato all'infinito in base allo sviluppo del suo ecosistema della sua richiesta della sua utility bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento spero che questo video vi sia piaciuto l'abbiate trovato perlomeno interessante vi invito come ho fatto un'apertura a supportare il mio lavoro scrivendovi al canale attivando la campanellina vi ricordo che in descrizione trovate anche il link alla nostra community telegram vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto ciao a tutti